Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la squadra mobile ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di una 39enne sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e un 41enne sottoposto alla custodia in carcere in quanto ritenuti responsabili dei reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale di gruppo. Secondo le indagini, i due soggetti sarebbero gli autori di gravi condotte illecite perpetrate ai danni di una donna moldava giunta in Italia da qualche mese in cerca di un'occupazione lavorativa. Le investigazioni hanno tratto origine dalla segnalazione pervenuta alla locale squadra mobile proveniente dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Gli agenti della squadra mobile, dopo gli opportuni approfondimenti, hanno effettuato un intervento nel luogo segnalato nel comune di Bronte, nel Catanese, dove sono stati rintracciati due arrestati oltre alla cittadina moldava. Sono emersi reiterati maltrattamenti e le lesioni personali subite dalla donna, nonché un episodio di violenza sessuale sempre posto in essere dai due soggetti, con la 39enne che avrebbe ripreso il tutto con il suo telefono cellulare posto sotto sequestro. Nella memoria dello smartphone, infatti, sono stati rinvenuti tre brevi video relativi a tale reato. La donna moldava è stata protetta in un'apposita struttura, mentre i due indagati sono stati tratti in arresto. La 39enne è stata ristretta ai domiciliari, il quarantenne invece tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza.